Possiamo dire quasi in contemporanea con l'inaugurazione della mostra del cinema di Venezia 2024, Rai 3 trasmette oggi, 29 agosto, a partire dalle 21.20, il film francese La scelta di Anne, l'eventement, che proprio in Laguna vinse, nel 2021, il prestigioso Leone d'Oro. Tratto da un romanzo autobiografico di Annie Ernault, il lungometraggio, duro e asciutto, racconta una storia dura e dolorosa ed è sorretto da una notevole interpretazione della protagonista Ana Maria Vartolome. La scelta di Anne, trama e cast del film L'azione ha inizio nel 1963, ad Anguleme, comune francese della regione Nuova Aquitania. Anne è una studentessa universitaria modello appartenente ad una famiglia umie, che con tanti sacrifici le ha permesso una buona istruzione. Tra le priorità della giovane c'è la laurea, e anche per questo, quando scopre di essere incinta di tre settimane, non avendo intenzione di diventare una ragazza madre, decide di voler abortire. L'apoca, però, è molto poca comprensiva su quella che è la sua scelta. I dottori sono generalmente antiabortisti, il medico di famiglia è molto perplesso, le leggi sono severe. In più il fidanzato sembra totalmente indifferente e le amiche non così disposte a trattare l'argomento. L'unico che sembra dalla sua parte è l'amico Jeanne, che mette Anne in contatto con una donna esperta in aborti clandestini. Ma non tutto fila per il verso giusto. Il film è una trasposizione del romanzo autobiografo con l'evento, scritto nel 2020 da Annie Ernau, premio Nobel per la letteratura nel 2022. La regista Audrey Dewan è qui al suo secondo film ed è anche sceneggiatrice, insieme a Marcia Romano, l'obiettivo è quello di rendere in immagini uno stile letterario asciutto e controllato. Il buon risultato ha permesso alla pellicola di vincere, forse un po' la ha sorpresa, in molti davano per favorito e è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che vinse comunque il Gran Premio. Il leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia nel 2021. La pellicola racconta con forza e coraggio 12 settimane di Anne, successive alla scoperta di essere incinta in una Francia anti-abortista. Un film doloroso e antiretorico, che qualcuno ha collocato accanto al 4 mesi 3 settimane 2 giorni e di Christian Mungiu, un capolavoro rumeno che vinse nel 2007 la palma d'oro a Cannes, che toccava analoghe tematiche. Per la scelta di Anne, l'evento Audrey Dewan ha diretto. Anna Maria Bartolomei e Anne Duccesne Casey Mottet Klein-Gian Luana Bagrami e Elene Luis Orri di Quero Brigitte Luis Cevillotte Olivia Pio Marmai e Professor Borneck Sandrine Bonner-Gabriel Anna Muglalis-Claire Leonor Oberson e Signora Riviere Alice dell'Inquesa Inglaetitia Fabrizio Rongione e Dottor Ravinski Cyril Metzger-Gaspard Eric Verdin-Jack Madeleine Baudolise Dove vederlo questa sera in TV e in streaming? Il film La scelta di Anne L'evento va in onda oggi, giovedì 29 agosto 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3 ed è visibile anche sulla piattaforma Rai Play, sia in diretta streaming che on demand.